Quali sono le prospettive di utilizzo dell'intelligenza artificiale per un paese come l'Italia? Allora, parliamo di AI generativa, quindi stiamo parlando di un potenziale impatto trasversale, quindi è difficile identificare un settore perché in realtà tutti i settori sono impattati in maniera orizzontale. Le possibilità sono enormi, un aumento della produttività che abbiamo stimato possa raggiungere il 18% del PIL, quindi un numero veramente molto elevato che va a compensare poi quello che è un trend invece demografico di riduzione della forza lavoro. Stiamo parlando di un orizzonte temporale che ci porta al 2040, però un orizzonte temporale che bisogna gestire in questo momento perché è chiaro che l'impatto lo cominceremo a vedere anche prima, quindi bisogna attrezzarsi ora. In qualche modo il risultato della nostra ricerca dice che bisogna fare digitalizzazione nelle PMI, bisogna fare molta più formazione e quindi è qualcosa che dobbiamo fare in questo momento, iniziare a fare la formazione in modo da avere le competenze per raccogliere questa opportunità. Ci sono delle prospettive anche per quello che è la pubblica amministrazione e tutto il mondo istituzionale? Assolutamente sì, questo viene visto come uno dei settori che può maggiormente beneficiare in termini di efficienza dall'utilizzo dell'AI generativa. Possiamo vedere la pubblica amministrazione in qualche modo come un altro settore di business. Una cosa che potrebbe succedere o che potrebbe essere molto di valore per l'Italia è che la pubblica amministrazione in qualche modo si faccia portavoce dello sviluppo di certe applicazioni perché questo potrebbe fare da volano poi per una possibilità aggiuntiva di creazione di valore. Quindi potrebbe consentire uno sviluppo e in qualche modo migliore conoscenza di quelle che sono le potenzialità della tecnologia. Questa è una tecnologia relativamente giovane ma che ha già fatto emergere dei problemi per quanto riguarda la privacy, per quanto riguarda l'interpretazione in un certo senso errata dei dati. A livello di regolamentazione quali sono i rischi e cosa si è già fatto per impedire questo tipo di problematiche? Dal punto di vista della regolamentazione c'è già una regolamentazione europea che quindi dovrà essere accolta e che costruisca un framework che sia relativamente solido su questa tematica. Dopodiché si può intervenire dal punto di vista tecnologico, nel senso che una volta che è evidentemente chiaro che è necessaria la privacy, che è necessario che gli algoritmi ci diano dei risultati veritieri, che è necessario controllare l'interpretabilità del risultato stesso, è evidente che si può intervenire, quindi sviluppando strumenti che facciano verifiche a priori di quello che potrebbe essere il risultato dato dalla macchina. Questo è già nel dominio delle cose che vengono studiate nel campo dell'intelligenza artificiale. Si tratta di fare in modo che chi produce poi i sistemi le applichi. Devo dire che la regolamentazione esistente credo che ci dia già una relativa tranquillità. Poi deve essere ancora declinata nei vari casi d'uso, deve essere resa applicativa, quindi esiste il framework, adesso bisogna però entrare nel dettaglio. Relativamente al mondo del lavoro, invece, quali sono le prospettive? Esiste effettivamente un rischio che alcuni lavori vengano cancellati dall'utilizzo massivo? Allora, cancellati in questo momento, per quello che è la nostra... in parte il nostro studio, ma in parte anche la comprensione che abbiamo dei sistemi, quasi mai, o mai, perché in realtà quello che succede è che vengono aiutati. E questo, nell'ottica di una demografia che invece porta a una riduzione della forza lavoro, chiaramente è qualcosa di positivo. Non c'è un caso ancora dove l'AI possa sostituire l'uomo completamente. In alcuni casi perché ci sono delle capacità manuali che sono difficilissime da sostituire, in altri casi perché anche quelle intellettuali mancano dell'elemento di generalità, di generalizzazione, che invece il nostro cervello fortunatamente riesce a darci. E quindi esiste un gap ancora molto ampio. E non sembra, da quello che possiamo capire dallo sviluppo adesso della tecnologia, non sembra plausibile che si arrivi a una situazione dove effettivamente, effettivamente, almeno in un caso, esista la cancellazione completa del contributo umano. Una riduzione delle necessità di ore, sì, ma non un sistema completamente senza la supervisione umana. Quindi un aumento di produttività non vuol dire meno lavoratori che fanno più lavoro, ma più lavoro fatto in maniera migliore. Assolutamente sì, è tra l'altro anche qualche modo più leggero per l'operatore umano, che evita una serie di lavori che sono tutto sommato molto ripetitivi, mantiene però il controllo a un livello alto dove si fanno le cose più interessanti. E questo mi pare abbastanza chiaro dall'utilizzo della tecnologia in questo momento. Per cui il mio modo di vedere è molto positivo. Poi, appunto, la questione demografica è molto impattante. Quindi dobbiamo avere delle tecnologie perché se no è chiaro che anche il nostro sistema complessivo, Paese, lo Stato sociale, le pensioni, la sanità, non reggono senza un aumento di produttività, che la sola tecnologia dell'intelligenza artificiale generativa ci può dare.